Gianluigi Paragone a Grosseto per parlare di difesa dell'agroalimentare italiano, il fondatore del movimento che porta il suo nome, ha preso parte a un convegno che si è proposto di analizzare le problematiche che affliggono la filiera agroalimentare italiana, evidenziando le sfide ma anche le opportunità che il settore può cogliere per migliorare la propria competitività e sostenibilità. Difesa dell'agroalimentare italiano rispetto alle politiche di aggressione che giungono da Bruxelles e dall'Europa, evidentemente la capacità del sistema agroalimentare italiano di fare bene business fa paura alle altre lobby di Bruxelles. Chi sono le altre lobby di Bruxelles? Sicuramente i grandi gruppi che mescolano food, alimentazione, chimica e quant'altro, noi queste cose qua non le facciamo e abbiamo il dovere quindi di difendere l'agroalimentare italiano. C'è una raccolta firme per quanto riguarda la difesa dell'agroalimentare italiano? Sì, è una raccolta firme proprio tesa a far capire a Bruxelles che non abbiamo intenzione di svendere il nostro sistema agricolo, l'agroalimentare italiano, non abbiamo voglia di assecondare quelle che sono certe mode, perché poi ci vuole un attimo che diventa tutta una moda e quindi ci mettiamo una firma per dire no alle farine di insetti. Grazie.